Per la rilevazione e mappatura delle varianti Covid, anche il Piemonte si è attivato. L'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi osserva stiamo procedendo su tutti i fronti per agire con la massima tempestività nell'individuazione e nel contenimento delle nuove varianti del virus. Abbiamo allo studio un provvedimento specifico per dare valore giuridico allo strumento statistico e epidemiologico che già utilizziamo per identificare in modo tempestivo sulla base di alcuni indicatori, densità di popolazione over 60, incidenza di contagi, le aree del territorio piemontese a maggior rischio di diffusione Covid con il quale abbiamo reso più efficace il sistema di contract tracing e di effettuazione dei tamponi. Alla luce delle nuove indicazioni del Ministero della Salute, prosegue Icardi e dell'Istituto Superiore di Sanità, in caso di riscontro di focolai causati da una delle varianti si tratterà ora di definire attraverso lo stesso strumento la distribuzione territoriale del focolaio e di individuare eventuali restrizioni da adottare come possibili zone rosse. Un'azione, conclude l'assessore alla sanità, sulla quale stiamo confrontandoci con sindaci e prefetti piemontesi in accordo con il Governo per l'oragazione dei conseguenti ristori. Intanto, il team, da poco costituito appositamente coordinato dall'infettivologo Giovanni Di Perri, ha discusso del Piano regionale per l'individuazione in tempo reale delle mutazioni del virus e vedrà coinvolti gli unici quattro laboratori attualmente in grado di effettuare sequenziamento l'Istituto Zoprofolattico, l'Ospedale Medeo di Savoia, l'Istituto di ricerca contro il cancro di Candiolo e l'Università del Piemonte Orientale. L'assessore alla ricerca applicata per l'emergenza Covid, Matteo Marnati, dichiara «Ci stiamo sottolando per analizzare giornalmente almeno l'1% dei nuovi casi positivi. Alziamo il livello di sorveglianza per garantire il contenimento dell'epidemia».